Ho fatto un minimo di contouring in questo caso, la cemente è che dovrò dare un po' più di prosodità al viso. Sono le bottiglie in esposizione. Questo sarebbe il tocco finale. Esatto, andiamo ad uniformare il tutto, rendere il tutto il più naturale possibile senza troppi distanchi. Eccoci! A voi vi piace? Questo è stato il Make Up Flash con Francesco, qui a Milano, per di oggi. Brina idea per voi. Grazie!